la 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 mia lei qui al four season di beverly hills guardate è stupendo un hotel da sogno ragazzi questo è un natale da sogno guardate che bello questo albero di natale stupendo so che in italia è tardi starete dormendo forse lo vedrete domani mattina quindi vi auguro intanto un buon natale anche se il ritardo buon natale a tutti felice anno nuovo per il prossimo 2020 spero che sia un ottimo anno bellissimo come vedete la riproduzione delle vie rodeo drive holiday boutique guardate che bello la 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 mia lei ragazzi è una serie di video con i quali racconto los angeles e racconto questa mia nuova esperienza di vita la città dei piangeli bellissimo questo talle è favoloso guarda ci sono delle persone non voglio riprendere guardate che bello qua ragazzi stupendo bellissimo beautiful voice beautiful voice meri christmas la 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 mia e lei qui al four season di los angeles è uno degli hotel più belli di beverly hills passeggiamo insieme è stupendo ragazzi bellissimo guardate con la finta neve riprodotta dalla vetrina bellissimo è stupendo guardate con la finta neve riprodotta dalla vetrina bellissimo è stupendo stupendo buon Natale a tutti dall'hotel più bello di beverly hills stupendo 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 stupendo